Ci sono due nuovi ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli che porta così a cinque il numero complessivo di pazienti ospitati nel centro regionale covid. Uno di questi è ancora in terapia intensiva. Nell'ultima tornata gli analisti dei laboratori del Cardarelli hanno processato 336 tamponi dai quali sono risultate contagiate quattro persone. Tre di queste appartengono a cluster noti, uno di Campobasso, uno di Ripabbottoni e uno di Campomarino. Il quarto positivo è di Monteroduni. Sale ancora il numero complessivo dei positivi attualmente trattati che arrivano così a 146. Ci sono tuttavia anche altri cinque guariti, due di Campobasso, due di Gambatesa e uno di Colle d'Anchise. Il numero totale dei guariti è dunque arrivato a 478. A Larino i bambini della scuola Magliano possono tornare tra i banchi dopo che l'esito dei tamponi effettuati sugli alunni della seconda elementare sezione C, gli insegnanti e il personale tecnico hanno dato un risponso negativo. Il direttore scolastico, in accordo con il sindaco, ha deciso per la riapertura della scuola. Dovranno invece sottoporsi a tampone nelle prossime ore gli undici dipendenti di un'azienda del Consorzio Industriale di Termoli che sono risultati positivi al test sierologico che avevano scelto di verificare volontariamente. Nessun positivo invece agli esami sierologici gratuiti messi a disposizione da Lasra e Maisernia nell'ambito dell'iniziativa Movida Covid Free che qualche giorno fa si era svolta a Campobasso. I 248 ragazzi sernini che hanno effettuato l'esame sono risultati negativi. I test nei prossimi giorni verranno eseguiti anche a Termoli. Un'azienda di Termoli